Ciao a tutti e bentornati con questo nuovo video, oggi siamo qua con un video, ebbene sì, ancora delle cover ma questa volta proveremo delle cover di un'azienda che io non ho ancora avuto modo e piacere di poterle provare fino ad oggi che seguo da tanto tempo, perché è da diversi anni che seguo questa azienda, non ho mai avuto l'opportunità di poterle provare e oggi invece è arrivata finalmente l'avventura di poter provare queste cover e accessori della Moft è un'azienda cinese che però posso dirvi ha quella differenza rispetto alle cover che normalmente troviamo in giro su Amazon piuttosto che su Aliexpress e quant'altro, sono delle cover che mi hanno veramente fatto impazzire c'è da dire una cosa, che per arrivare ci hanno messo circa un mese e io le davo per disperse quindi è stata un'ulteriore sorpresa avere la possibilità di poterle provare ma, bando alle ciance, cerchiamo di capire che cosa hanno di diverso queste cover dalle altre allora, prima di tutto parliamo di cover per iPhone 14 Pro Max, quindi per quel bambino lì cosa hanno di diverso? allora, il materiale è un TPU PET PC magnetico, quindi tecnologia MagSafe e già questo è un pezzo avanti, un pregio allora, prima di tutto ha la possibilità, cioè ha la funzione di evitare danni nelle parti laterali del dispositivo quindi siete penalmente coperti camera e screen protection, quindi protegge sia lo schermo che le fotocamere proprio perché ha un rialzo è testato per evitare che si danneggi a massimo 5 piedi, come lo chiamano loro, 5 feet ha la possibilità di avere la tecnologia MagSafe, questo perché poi dopo andremo a vedere anche nei vari accessori funziona anche con lo snap-hot phone stand, che è sempre della Moft e il wallet, che eventualmente potete utilizzare anche quello di Apple e potete utilizzare anche il supporto che si utilizza ormai da TikToker da poterlo avere il gancio sul telefono per poterlo tenere in modo più safe allora, prima cover, è una cover compatibile, come dicevo, con MagSafe Phone Case, è una cover che io ancora non l'ho aperte cioè quindi per me è la prima volta che le apro ma già dal vederla in questo modo qui riesco a capire che sì, è una cover in plastica perché è plastica questo materiale qua quindi banalmente quello delle cover in silicone ma quello che mi piace di più di questa cover al di là del fatto che questa colorazione qua è veramente bella perché è veramente tanta roba questo grigio scuro all'interno troviamo il MagSafe quindi abbiamo modo di attaccare i nostri dispositivi la scritta Moft che è in rilievo nella parte alta è rigida, è una cover rigida normalmente ma a differenza delle altre tralasciando il fatto che comunque non si ingiallisce è la prima cover che trovo in colorazione scura e con dei rilievi veramente fatti molto bene cioè non è la solita cover da 5 euro che trovate dai cinesi detto chiaramente cosa non mi piace eventualmente che purtroppo il materiale TPU è rigido ma purtroppo si sporca perché se notate ha già dei graffietti ha già delle macchie nella cover che si riescono tranquillamente a pulire però stare sempre lì a pulire non è proprio il massimo ma andiamo a vedere come calza sul nostro iPhone che è sempre lui in versione nera allora l'inserimento è molto smart cioè molto semplice l'impugnatura mi piace mi piace perché è un'impugnatura molto normale nel senso che comunque sia non noto particolari problemi vi faccio subito notare una cosa che questa l'ho notata subito guardate che c'è il simbolo del MagSafe quindi questo succede quando voi utilizzate degli accessori MagSafe nella cover succede che va in rialzo questo significa che purtroppo in controluce vedrete sempre il segno del MagSafe e questo purtroppo succede anche sulle cover in silicone della Apple quindi non è solamente una questione di Cina ma è una cosa proprio generalizzata dal telefono sono riuscito a togliere tranquillamente un pochettino si deve adattare la cover ma per il resto non è per niente male quindi la prima cover è questa la seconda cover è una cover che è molto simile a quella precedente praticamente le funzioni sono le stesse semplicemente è una cover che se io riesco ad aprirla perché veramente hanno fatto un packaging notevole cioè vanno fatti complimenti all'azienda è in colorazione bianca quindi totalmente bianca sempre silicone sempre TPU sempre tecnologia MagSafe che però vi faccio già notare hanno cambiato il colore almeno perché su cover bianca mettere un altro bianco non è il massimo e di conseguenza hanno deciso di mettere la versione grigia come sempre le funzioni sono le stesse l'unica cosa che cambia è ovviamente il colore esterno della cover ma per il resto guardate come si inserisce veramente molto facilmente supporta totalmente tutta la tecnologia MagSafe e poi posso dirvi che questa colorazione qua bianca è davvero ottima quello che mi piace di più è infatti il rilievo tra il bianco e il nero che per quanto possono essere dei colori di una squadra che io personalmente non tifo però guardate che veramente che bello quello che mi piace di più di queste cover è che lo sbalzo tra il colore trasparente il bianco si nota proprio cioè è proprio sembra uno stampo fatto sopra e personalmente a livello di colorazione è davvero davvero ottimo e cioè davvero complimenti quello che si prospettava fin dall'inizio un ottimo prodotto di questa azienda qua che io come dicevo prima veramente ci tenevo a provare si sta rispecchiando realmente quindi al di là del fatto del prodotto che mi viene fornito dall'azienda comunque sia sono degli accessori veramente ottimi la prossima cover l'ultima cover di oggi è una cover trasparente quindi molto simile a quella tra virgolette originale di Apple che come vi dicevo l'altra volta non comprate perché non ne vale assolutamente la pena costa troppo per un prodotto che alla fine è uguale agli altri cover trasparente c'è da dire e da partire col presupposto che una cover trasparente soffre del solito problema di ingiallimento questa c'è scritto che non ingiallisce ma vi dico già che comunque sia le macchie si vedono e soprattutto le impronte è una cover come tutte le altre trasparenti non è che c'è molto da dire però bisognerà vedere col tempo se questa cover si danneggerà o rimarrà la stessa vi faccio già vedere guardate è pieno di impronte senza averla mai toccata però veramente bello io personalmente se non fosse che sono pignolo e non mi piace vedere la cover tutta rovinata o comunque tutta segnata io sinceramente sarei sempre stato propenso all'acquisto di quella trasparente perché così si vede anche il design del telefono e non si va a coprire anche perché sennò difficilmente si riesce a capire se è un iPhone 13 Pro o un iPhone 14 Pro se non per il notch diverso quindi la Dynamic Island andiamo a vedere gli ultimi accessori che in questo caso qua non sono cover come vi dicevo ma bensì sono degli accessori molto interessanti prima di andare a vedere quello che secondo me è il più bello vi farò vedere i tre accessori che mi hanno mandato che sono praticamente i wallet che si attaccano alle cover sia originali e sia cover della Moft allora si aprono in modo veramente molto carino infatti si aprono nella parte dietro qua ci spiega un po' come si può utilizzare questi accessori danno la possibilità di avere il telefono in modalità Portrait quindi normale davanti Landscape quindi di lato e poi avete la possibilità di metterlo in modalità Floating Mode quindi le tessere sono verso l'alto e il telefono è in orizzontale per quanto riguarda invece l'attacco pienamente supportato con il magnete e avete la possibilità di inserire fino a tre tessere al suo interno come si apre allora prima di tutto si apre suppongo in questo modo qua guardate già il fatto che comunque sia diverso dalle altre già mi piace non mi piace il fatto che si rovina così tanto perché io sono uno pignolo con le custodie però abbiamo capito che poi vanno buttate questo è poco ma sicuro allora apriamo e vediamo la prima il primo accessorio è di colore grigio un colore molto bello mi piace ed è in abbinamento alle cover che già abbiamo vedete si incolla subito non ha assolutamente problemi a staccarsi è veramente un magnete bello rigido e poi avrete modo di poter scegliere tutte le modalità quindi se volete metterlo in piedi se volete metterlo di lato potete tranquillamente farlo senza veramente aver nessun difetto potete metterlo anche lateralmente come dicevano loro per tenerlo in piedi quindi leggermente rialzato come se fosse una staffa l'unica cosa che vi consiglio personalmente è di abbinarlo alla loro cover come dicono loro o comunque un altro magnete perché riuscite ad avere un grip maggiore personalmente andare in giro così col telefono è veramente molto rischioso e lo sconsiglio andiamo a provare velocemente le altre due wallet giusto perché comunque sia sono stati forniti ma come dicevo prima anche con la cover il prodotto è lo stesso cambia semplicemente la colorazione vediamo al suo interno questo questo colore qua che è il bianco quindi si abbina con l'altra cover che abbiamo già visto come sempre si aggancia non ha problemi a scegliere la direzione vedete in questo caso qua non si è agganciato ma se io lo metto al contrario si aggancia questo perché il magnete è nella parte alta e non nella parte bassa ma una volta fatto questo guardate pieno supporto al wallet l'ultimo wallet che è stato inviato invece è in colorazione viola questa colorazione qua che posso dirvi effettivamente è un bel colore infatti quando ho fatto mi hanno chiesto quale prodotto volessi scegliere ho detto questa colorazione qua perché davvero si abbina molto molto bene io tra l'altro ho tutti i wallet come ho tutte le cover in pelle come avete già visto nel video se non l'avete fatto vi invito a farlo e magari ci farò un video anche su tutti i wallet che io ho in possesso e vi dico un po' cosa ne penso colorazione viola stesso procedimento si incolla e rimane attaccato quello che mi piace di più di questa azienda comunque sia è che è molto simile alla pelle del wallet originale quindi di conseguenza spendete molti molti meno soldi per un prodotto che praticamente è lo stesso l'unica cosa che vorrei verificare sinceramente è il fatto che le tessere al suo interno non cadano cioè nel senso che comunque sia mi piace il fatto che sia uno stand mi piace che comunque sia compatibile in diverse funzioni e tutto però mi interessa che le tessere che ci sono al suo interno non si perdono vi faccio notare anche se si vede le cuciture che sono state fatte quindi è simile pelle perché non è pelle originale diciamo ma è pelle sintetica ma personalmente è una colorazione che una colorazione è una lavorazione veramente ottima l'ultimo accessorio è l'accessorio che mi piace di più o perlomeno è quello che vi volevo far vedere è una power bank stand power set della Moft quindi una power bank con supporto sempre al al loro wallet ma quello che mi piace di più di questa cover qua di questa scusate questo caricabatterie qua è che potete utilizzarlo con entrambi gli accessori quindi potete avere entrambi gli accessori compatibili è compatibile col MagSafe quindi vi basterà inserire la power bank sul dispositivo e lui inizierà a caricare e pelle vegana quindi senza problemi non sono stati uccisi animali né niente potete eventualmente caricare col magnete tramite il cavo questo dopo vi spiego come funziona e potete caricare addirittura la power bank ok quindi caricate la power bank e nel frattempo la power bank carica il dispositivo così facendo caricate due cose in uno è molto compatta adesso ve la faccio vedere come dice l'azienda 3400 mAh di batteria di capacità della power bank quindi tendenzialmente riuscireste a caricare dallo 0 al 90% un iPhone 14 Pro Max e avete purtroppo questo dico purtroppo perché potete utilizzare anche l'uscita type C per poter caricare un dispositivo ma è solamente 5 volt 2 ampere questo anche in fase di ricarica quindi ci metterà tanto a caricare questa power bank e la cosa che più mi sto a storcere il naso è che il wireless output è di 7.5 watt e tenete conto che l'uscita del MagSafe il caricatore è di 15 watt quindi non sfrutta pieno l'iPhone caricherà un po' lento però l'importante comunque sia che carichi e non ci fate caso alla fin fine se lo utilizzate apriamo la scatola e guardate anche il fatto comunque sia del packaging che è davvero bello bello cover c'è la cover sono fissato con le cover probabilmente perché ne sto recensendo veramente tante lo metto un secondo via vi faccio vedere il manuale che a noi non ci interessa però è giusto comunque sia farlo vedere è presente anche il wallet che vi dicevo prima che si apre in questo modo qua in colorazione nera quindi praticamente abbiamo tutti i colori dell'azienda e poi è presente un cavetto che si spera sia type C da ambe due le parti ma ho qualche dubbio ma cerchiamo di capirlo insieme se riusciamo ad aprirlo ok si apre nella parte alta ed è un type C attenzione da ambe due le parti quindi veramente ottimo e soprattutto è in nylon quindi quel tessuto che mi piace a me e che vi consiglio sempre di comprare per i cavi perché sono veramente ottimi quindi di conseguenza sono stato sbalordito da parte dell'azienda perché effettivamente hanno azzeccato l'abbinamento perfetto allora similpelle si vede che comunque sia pelle vegana veramente molto bello è molto piccolo cioè guardate quanto è piccolo e qua dentro potete caricare praticamente un iPhone è presente la porta type C ovviamente giustamente avendo il caricatore type C la porta deve essere type C c'è il magnete a rilievo il magnete del negsafe con tutte le informazioni certificazione e quant'altro il tastino che ci indica lo stato di ricarica come sempre solito concetto 25, 50, 75, 100% non vi indica lo stato di batteria inferiore quindi come può essere il 26% come può essere il 18% però comunque sia lo avete e quello che vi lascerà sbalorditi è il fatto che questa power bank supporti l'animazione di Apple guardate io l'ho inserita ora non carica ma bensì se voi selezionate e cliccate questo pulsante facciamo così la power bank inizia a caricare e c'è l'animazione di Apple questo vi dà anche la possibilità se non sbaglio di poter vedere lo stato di ricarica del dispositivo ma non della power bank questo perché non supporta il magnete di Apple perché alcune batterie lo fanno e magari in futuro ve lo porterò comunque sia funziona e poi quello che mi piace di più è il fatto che come dice l'azienda a questa power bank ci possiamo attaccare anche un magnete quindi eventualmente possiamo metterla così e guardate che figata esce fuori sembra un Transformers però funziona cioè voi potete in poche parole avere il telefono che sta caricando e allo stesso tempo tenerlo appoggiato alla vostra schivania e poter fare tutte le funzioni che gli vengono date quindi personalmente io ci tengo di nuovo a precisarlo questa azienda mi ha sbalordito perché veramente ha fatto dei prodotti ottimi cioè fare delle cover probabilmente è semplice fare delle cover fatte bene è già più difficile fare degli accessori multifunzione è sicuramente innovativo non è sicuramente la prima azienda che fa questi accessori ci tengo a precisarlo però a me quello che interessa è che ci sia innovazione soprattutto sfruttando a pieno tutte le funzioni delle varie potenzialità del telefono a me di aziende che mi inviano prodotti per Apple e non mi danno la possibilità di avere un supporto al MagSafe ad esempio per quanto una persona possa utilizzarlo o meno e per quanto personalmente la ricarica wireless ad esempio a me non piace perché alla lunga rovina la batteria del telefono però so di averla so che posso utilizzarla un po' come la macchina che io appoggio nella base della ricarica eventualmente posso caricare comunque è una possibilità che mi viene data e questa azienda veramente Moft mi è piaciuta ci tengo a precisare che mi è stato fornito il prodotto ma non sono stato pagato per fare la recensione bensì è un parere totalmente mio e ragazzi è un'azienda che ne vale la pena per i costi che ha vale la pena cercherò di capire chiedendo all'azienda se eventualmente sono presenti oltre che degli sconti personali quindi con il mio codice coupon mi interessa più che altro capire se le spedizioni possono essere un pochettino più lunghe perché un mesetto si fa sentire però ragazzi cover davvero ottime e per la quale personalmente io un pensierino ce lo farei e ce l'avrei fatto anche se eventualmente non me le avessero mandate detto ciò spero che il video sia stato di vostro gradimento se lo è stato vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale e ci vediamo prossimamente con un nuovo video qui da noi tra l'altro adesso ho aperto da poco il profilo tiktok dove carico dei short dei video registrati di conseguenza vi invito anche a seguire quello che trovate il link in descrizione e mi farebbe molto piacere un saluto e alla prossima ciao a tutti ciao a tutti